Salve a tutti amici di Marcosbox, benvenuti in questo nuovo video di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. Quest'oggi voglio chiedere a voi, a voi utenti, la vostra opinione sulle suite di produttività Apache OpenOffice e LibreOffice. Secondo voi queste due suite sono all'altezza di Microsoft Office? Sono sufficienti per un'utenza medio esperta? Ma ancora più, è possibile sostituire Microsoft Office con queste due suite all'interno di una realtà produttiva? Sto parlando di una piccola azienda? Quali sono le vostre esperienze a riguardo? Quali sono i vostri pareri? A voi la parola, a voi i commenti. Ciao!